I favori al Cagliari incredibili, quindi una squadra diversa, una difesa diversa, ma anche un atteggiamento del Cagliari sicuramente meno propositivo della partita con Napoli domenica. Lungo prova ad andare via, non ce la fa, col colpo di tacco, Gonzalo Rodriguez mette in campo tutta la propria esperienza. Aveva provato Lungo a fare il tunnel al Gonzalo Rodriguez e Gonzalo Rodriguez ha preso padre e ha fatto il tunnel a Lungo, quindi questa è la differenza fondamentale tra un giocatore di grande esperienza e uno alle prime armi.